I protagonisti dei miei film sono praticamente sempre donne, quindi la donna è quasi sempre in tutte le scene, per cui diciamo che proprio anche solo quantitativamente mi pongo di più questo problema che non quando riprendo il corpo degli uomini. In generale sia per le donne per gli uomini cerco di riprenderli in modo, come dire, con grazia. Non mi piace che gli attori in generale risultino sgradevoli o poco curati, anche perché gli attori, come dire, poi si rivedono e soffrono molto del fatto che non siano stati ripresi con cura. Detto questo è chiaro che riprendere un corpo femminile per me è più agevole essendo io donna, quindi sono più attenta a una serie di problematiche che so già, come dire, esistere anche sul mio di corpo, questo sicuramente. Però in generale, insomma, sto attenta agli attori perché fare l'attore è un lavoro molto difficile, che tu sia donna o che tu sia uomo, ma molto difficile dal punto di vista poi psicologico anche, sai, non sanno che cosa sta succedendo mentre tu li riprendi e quindi, come dire, io mi sento molto responsabile di come loro risultino. Devo dire che io ho un atteggiamento molto tirannico con i reparti tecnici sul set, non ho assolutamente un atteggiamento tirannico con gli attori. Sento molto la loro opinione, sia che siano maschi, sia che siano femmine. È chiaro che con le femmine io instauro, diciamo, un piano di relazione secondo me più profondo. Con i maschi, per carità, la relazione c'è, rimaniamo amici, mi telefonano per andare a teatro a vederli, vado a vedere i film che fanno, ma siamo sempre nell'ordine della relazione più di, come dire, di gentilezza sociale. La relazione profonda è sempre con le attrici femminili che poi rimangono mie amiche per anni, vengono a casa mia, le ospito quando vengono a Milano, io vado ospite da loro a Roma. Diciamo che è una relazione che poi si trasforma in amicizia vera. Per me non c'è difficoltà nel tratteggiare i personaggi maschili essenzialmente. Come poi nello specifico agisco, è un po', come dire, difficile per me teorizzarlo, perché io lo faccio, non è che lo teorizzo. Detto questo, mi riferisco sicuramente a modelli di umanità maschile che ho intorno da tutta la vita. Non credo di avere mai avuto intorno dei modelli maschili così alti per poter poi tratteggiare dei personaggi, dai contenuti così densi come quando tratteggi personaggi femminili. Vengo accusata in genere di mettere i personaggi maschili molto sullo sfondo e soprattutto di tratteggiare in maniera negativa. Negativa in che senso? Nel senso che sono personaggi che nel loro equilibrio che è un equilibrio dato da dei meccanismi mentali per cui si tengono in equilibrio, sono carenti di messa in discussione. Posso dire che tendenzialmente gli uomini si mettono poco in discussione, forse perché fa parte della loro tecnica di tenute in equilibrio. Le donne nel mio cinema si mettono in discussione, seguono l'arco narrativo di trasformazione del personaggio, ma perché riconosco alle donne e anche a tutte le donne che io conosco uno sforzo di cambiamento e di miglioramento. Quando non hai vent'anni ma è la mia età è chiaro che segui storie personali per decenni e quindi posso dire che le donne che mi stanno intorno hanno tutte seguito un arco di trasformazione e tendenzialmente meglio. Personalmente non ritengo che esista un linguaggio specifico del cinema delle donne. È un dibattito che è stato molto portato avanti negli anni 60 e 70 in cui si riteneva che le donne mettessero la macchina fissa e poi facessero entrare in campo gli attori e intervenissero senza tagli. Cioè il cinema femminile si sosteneva che desse molto più spazio allo spazio e al tempo, cioè alla riproduzione della realtà. Credo che oggi come oggi questo tipo di discorso nel 2014 sia completamente superato, basta solo pensare a Catherine Bigelow. I miei riferimenti per il cinema sono poi registi che ho studiato molto dal punto di vista del linguaggio. Uno di questi sicuramente è Martin Scorsese, un altro sicuramente Antonioni, un altro sicuramente è Jean-Luc Godard. Devo dire che la donna che più mi ha interessato, regista donna che più mi ha interessato dal punto di vista dell'uso del linguaggio e della riflessione sul linguaggio, sicuramente è Chantal Ackermann. Chantal Ackermann lavora appunto sul piano sequenza, piani sequenza tra l'altro lunghissimi, in cui stabilisce molto bene qual è l'inquadratura, qual è la composizione, dopodiché fa entrare gli attori e fa succedere delle cose. Ecco questo diciamo che per me è stato piuttosto di indicazione poi rispetto a come faccio regia io, anche se non è l'unico, l'unica regista diciamo che lavori sul piano sequenza, sul piano sequenza lavorano tantissimi, da Bellatar a Stanley Kubrick.